A volte può capitare che la dieta arrivi a una fase di stallo o plateau, oltre la quale non si riesce a perdere peso. Si tratta di un normale meccanismo di difesa del corpo, che vede nel dimagramento, soprattutto se rapido, una situazione di rischio e il corpo tenta comunque di recuperare il peso perso. Questa situazione può essere molto frustrante a molteplici cause, ma la più comune è l'essersi posti un obiettivo difficilmente realizzabile da ottenere con un regime dietetico eccessivamente restrittivo. In questo caso la soluzione migliore è seguire una dieta graduale ed equilibrata, che faccia perdere poco peso alla volta, portando all'organismo comunque tutti i nutrimenti di cui ha bisogno. Altre cause possono essere il profilo ormonale, aspettative realistiche, attività fisica insufficiente o inadatta, alimenti ripartiti in modo inadatto, con una conseguente riduzione della massa magra e abbassamento del metabolismo basale.